Ragazzi, scusate per il ritardo ma siamo arrivati appena adesso al mare, guardate che bello, la fabbia è fantastica, c'è anche una barga qui, vabbè, scusate se si sentono sti umani che parlano, eh che bello, siamo al mare, no che bellissima, già ragazzi, e poi oggi è un giorno fantastico, siamo tutti quanti pronti, prof, 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 ci sei, sì, 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 lasciami dormire, sono stanca, insomma ho fatto tanto lavoro, va bene prof, Ah, insetti anch'io, molto stanca, mi sono portato la mia borsetta con tutti gli accessori, io ho dentro la videocamera, non so se si vede, non vedo il tubo, yeah, beh, siamo tutti quanti pronti, gli umani parlano troppo, quanto parlano, aiuto questi umani, il video verono adesso è mio, no, dammi il verono, va bene, oh ragazze, vieni, facciamo il bagno, Sì, piccoli Lil, forza, andate a farvi il bagno, sì, forza, andiamo, il mare oggi è super agitato, non so se per noi piccoli Lil è la cosa migliore, già, peccato, volevo farmi tanto il bagno, le lol se lo so, se lo possono fare, già, loro sono più grandi, Forza, torniamo nella sabbia più asciutta, però guarda quante conchiglie, che belle, io le adoro, prendiamone una, io prendo questa, guarda, è un po' infabbiata, basta sciacquarla un po' con l'acqua, ecco qua, ecco qua, bella pizza, forza, andiamo, andiamo di là, Ragazze, ma cosa fate? Avete un'ora triste, ragazze, è successo qualcosa? Beh, sì, cosa è successo? Forza, venite qua, abbiamo preso una conchiglia, e perché siete tristi allora? Perché il mare è troppo agitato e noi abbiamo paura delle onde, però quello potete fare, oh, mi dispiace, in effetti, no, io non mi faccio bagno, voglio solo rilassarmi dopo tutte queste ore di studio, No, io invece vado a salmelo subito, oh, anch'io, aspettami, Trumbull Maker, vengo con te, mi aspetti? Certo, stiamo arriva però, ovviamente potremmo perdersi tutti quante, oh no, perderci sarebbe orribile, oddio no, no, perdersi sarebbe davvero una cosa orribile, Scusate, ma io adesso c'ho un po' di sete, bevo, un po', che buono, mmm, eh già, è proprio buono il tuo viperon, una volta ecco, io l'ho versato un po' nel mio, però non ho bevuto, meno male, forza, questa giornata al muore è bellissima, Ah, comunque, io ho un regalo per te, davvero, sì, aspetta qui, ma dove è andata? Ecco qua, un nuovo coccolo, wow, è troppo carino, wow, è troppo buono, oggi abbiamo fatto l'intra dei gatti, e poi tu sei un gatto, e quindi, oggi è praticamente la giornata dei gatti, Scusate, è bello, è fantastica, miau, miau, mi vuole, scusami ma adesso devo andare a farmi il bagno, vuoi venire con me? Miau, 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 eh, no, è andata a salire, ti ricordo che i gatti odiano l'acqua, oh, io oppure essendo un gatto, la amo, ma perché siamo anche una lol, beh, è vero, forza, andiamo a farci il bagno, Speriamo che nessuno ci prenda in giro, perché dovrebbero prendere in giro? Perché siamo lol, e sarebbe stranissimo, tipo, avere la videocamera, portarsela dietro, e poi, tutti quanti che ci guardano, stranissimo, ci guarderanno tutti, ma, chi se ne frega degli altri? Sì, io adesso mi tolgo gli occhialini, eh, eh, ci lo farò mai, eh, ce li vedi tu, mi sa che se li ho presi il gap, eh, vabbè, comunque, andiamo, parta, andiamo, tutti in acqua, yeee, muoviamoci, Oh, eccoci qua, ma il mare è veramente super agitato, oh, sì, è super agitato, oddio, super agitato, extra, ma dai, questo mare a me non fa paura, forza, eh, io vado, sì, anch'io, eh, aspetta, noi entriamo, 3, 2, 1, eh, eccoci, L'acqua, l'acqua è gelida, eh, andiamo un po' più avanti, sta per arrivare un'onda, speriamo l'acqua non sia troppo fredda, eh, è freddissima, è gelida, però è bellissima, wow, è molto bello, wuhu, sparta, è fighissima, altre onde, E' troppo divertente!